Giurisprudenza ha finalmente la sua nuova sede, un polo didattico rinnovato, moderno, con più servizi. Avezzano avrà da oggi un'infrastruttura adeguata alle necessità dei suoi studenti universitari. Per inaugurare la nuova sede di Via San Drobertini sono intervenuti il Rettore dell'Unité Dino Mastrocola, il Preside di Giurisprudenza Professor Paolo Marchetti, il Presidente della Regione Marco Marsilio, l'amministratore del CRUA Rocco Micucci, l'ex sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis e il commissario prefettizio appena nominato, Mauro Passerotti, che si insiederà entro qualche giorno. Tutte le parti in causa, quindi, che hanno dialogato affinché sia stato possibile trovare una sede adeguata agli standard dell'Unité e dei suoi studenti. Va bene, nonostante le vicissime decisioni politiche che siamo di soddisfazione inaugurare una sede universitaria importante per Avezzano, per la Marsica e per il territorio. Sì, è una soddisfazione particolare questa perché erano sei anni che i ragazzi svolgevano le attività all'interno di aule non adatte né agli studi che facevano, ma tantomeno non davano dignità alla importanza che l'Università di Teramo ha e che voleva manifestare sul territorio. Quindi questo piccolo campus universitario che abbiamo inventato qui li rende merito e sono sicuro soprattutto che i ragazzi potranno studiare in aule più consone, hanno i laboratori anche quest'altro anno per attivare la Corte di Scienze Biotecnologiche. Insomma, c'è l'avviamento di un percorso che farà bene agli studenti, ma farà bene soprattutto alla città di Avezzano, al territorio, perché ritorna ad essere un'università prestigiosa all'interno di una sede adeguata. Avete lavorato molto per questo progetto, credo che poi l'avete abbastanza tranquillo e mi sembra che anche in questo caso c'è la soddisfazione di aver fatto qualche cosa di utile. Sì, guardi, io lascio ad Avezzano tante cose che abbiamo programmato, finanziato e realizzato nel giro di 24 mesi. È stata una cosa da record, ma la politica poi è fatta così, si è presenti e si va via, ma la cosa più importante è lasciare le cose che uno aveva promesso di fare alla città e ai propri cittadini. Hai detto che, per concludere, che continuerò a lavorare, quindi le faccio gli auguri a buon lavoro. Sì, 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 sì. Ho detto che sarò parte attiva per la ricostruzione di questo centrodestra, sono un dirigente di Forza Italia, quindi mi impegnerò per far tornare il Cume di Avezzano nelle mani del centrodestra e di un'amministrazione che continuerà questo percorso, questa traiettoria. La soluzione migliore è assemblata alla fine proprio alla sede del Crua, nei pressi del nucleo industriale di Avezzano. La posizione non centralissima della nuova facoltà di giurisprudenza non deve comunque preoccupare gli studenti, dato che sono già intavolate le trattative per trovare collegamenti con il centro città. La facoltà di giurisprudenza conta numeri sempre più alti di iscritti, vede ora una sede migliorata e più efficiente, esprime ancora più qualità e si appresta a essere ormai un centro dislocato sì, ma fondamentale per l'Università Terramana. Tant'è che sono già in cantiere nuove proposte per portare nella cittadina marsicana altri corsi di laurea e corsi post laurea, prima su tutte la facoltà di bioscienze agrari e tecnologie alimentari. Sbocco formativo questo che ben si concilierebbe con la realtà locale, visto l'elevato numero di aziende agricole presenti nella Marsica, con eventuali possibilità di tirocini e stage formativi per gli studenti. Altro progetto in cantiere è portare ad Avezzano il Master in Criminologia, che vede sempre maggiori richieste su tutto il territorio nazionale. Dagli albori della facoltà di giurisprudenza qui a Avezzano ad oggi, l'inaugurazione di questa sede è la dimostrazione definitiva che Avezzano ha risposto bene all'investimento dell'Università di Terramo? Io direi sicuramente di sì, oggi è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, perché con la nuova sede, consentitemi di ringraziare l'amministrazione, ma anche il Crua in generale per la disponibilità, insomma perché ricordiamoci che siamo ospiti in una struttura che ridà dignità proprio alla collocazione dell'Università di Terramo ad Avezzano. E mi piace pensare in prospettiva forse non solo all'Università di Terramo, mi piacerebbe pensare al polo universitario della città di Avezzano. Quindi dà anche prospettive perché sicuramente una collocazione dignitosa per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza, per iniziative post lauream come potrebbero essere il Master in Criminologia o altro, ma anche la possibilità di far partire qui la Corte di Scienze e Tecnologie Alimentari se il territorio risponde con un numero di scritti congrui, quindi oltre i 25, possiamo dislocare qui alcune lezioni e soprattutto grazie ai laboratori del Crua, quindi anche delle esercitazioni. Quindi direi che grazie al rapporto che abbiamo avuto con l'amministrazione e direi con le amministrazioni, quindi in generale la città ha risposto molto bene, quindi riusciamo a dare dei servizi ai nostri studenti, quindi una sede dignitosa. Penso che un altro piccolo sforzo vada fatto per i collegamenti, ma andiamo nella direzione giusta. A questo punto, insomma, Avezzano piano piano diventa città universitaria.